La mosca che vi sto presentando è l'alcina, una mosca di semplice e nessuna difficoltà costruttoria, ma bensì una mosca che comunque è molto accatturante. I materiali che servono sono pochissimi, filo di montaggio brown 6.0, un amo che va da 14 al 20, cul de canard e essenziale l'alce, due fibre d'alce. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.